Hanno accelerato l'andatura dell'autovettura alla vista della polizia cercando di allontanarsi ma sono stati fermati e identificati. L'equipaggio di una volante ha notato una Fiat Punto con a bordo tre ventenni che transitava per piazza Papa Giovanni XXIII. Visto l'atteggiamento insofferente al controllo i tre giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale e addosso a uno di essi poliziotti hanno trovato nove involucri di marijuana nascosti all'interno degli slip. Durante la successiva perquisizione eseguita nelle domicilio del giovane gli agenti hanno inoltre sequestrato delle stecche di hashish, due grinder e un bilancino di precisione. Il ventenne incensurato è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.